Abbiamo praticamente saputo che l'attuale presidente che è cambiato rispetto a quello che c'era precedentemente ha riportato comunque una identica proposta che riguarda un regolamento che dovrebbe secondo noi peggiorare la situazione dei cittadini che si dovessero trovare ad avere delle perdite occulte quindi inconsapevoli nell'acquedotto nella parte che va dal contatore fino alla propria abitazione ASET è una società pubblica e quindi dovrebbe avere al primo posto come priorità la tutela dei cittadini invece da quello che si evince studiando meglio la proposta del nuovo regolamento che verrà tutelata l'azienda speriamo insomma che il nostro sindaco sia consapevole di quello che va a votare e soprattutto che sia contrario si dica contrario quindi abbiamo fatto questa mozione che speriamo di non discutere troppo in là e così vedremo anche il ruolo che la giunta ha intenzione di giocare in questa situazione Oggi un cittadino che non per colpa sua dovesse avere una perdita di acqua e ovviamente se ne accorge in genere quando gli arriva la bolletta ecco oggi è fortemente tutelato perché fino a 3600 metri cubi di perdita non deve pagare assolutamente nulla se poi invece ne ha addirittura di più quindi una grossissima eccedenza deve pagare qualcosa ma abbastanza limitato se passasse questa sciagurata ipotesi succederebbe che anche quelli che aderiscono a un fondo di tutela diciamo che di qualche euro al me all'anno cosa da poco ma anche quelli subirebbero un esborso anche entro i 3600 metri cubi che oggi sono completamente coperti di cifre rilevanti facciamo un esempio pratico 2000 metri cubi di perdita oggi il cittadino non pagherebbe nulla se invece passa questa delibera dovrebbe tirar fuori 5230 euro è un'ammazzata vera e propria supponiamo che la perdita sia maggiore 4000 metri cubi oggi è tutelato in maniera forte perché tirerebbe fuori non è una cifra da buttare via ma insomma 514 euro ma con la nuova delibera passiamo a 10.459 euro una cosa folle sono cifre che auspichiamo che nessuno nessun cittadino debba tirare fuori perché veramente è un salasso insopportabile ora che uno una azienda pubblica voglia fare profitti sui cittadini sfortunati che hanno appunto l'occasione di perdere acqua è veramente incredibile è un salasso insopportabile